E torniamo appunto a parlare ancora di maltempo. La nostra troupe si è recata stamana ad Alcamo Marina, dove abbiamo raccolto informazioni e immagini da alcuni residenti. Ogni anno si verificano queste situazioni, però quest'anno è stata la più bella, perché pure dentro casa mia è tutto pieno di fango. Come potete vedere dall'altra parte non c'è niente, perché qua dentro c'è una fogna, che non si vede, perché è talmente attuppata che l'acqua non passa più lì dentro. E per questo ho anche l'acqua all'interno della mia casa. Io non so questi danni chi me le paga, perché ho il fango pure dentro la cucina, dentro i mure, ovunque io non riesco nemmeno a mettere un piede dentro. Io credo un provvedimento molto serio, perché ogni anno non è possibile che si verificano situazioni del genere di queste. Ci mettiamo qualche tombino, ci mettiamo un'altra fognatura adatta, più resistente, più consistente, non so, un provvedimento, qualcosa più tecnico. Tutta l'acqua, come qua si può vedere, viene tutta la sua. Ogni anno succedono sempre cose di queste, cioè magari cercare un provvedimento, di fare qualcosa per magari migliorare queste situazioni.